Sono detto di donarti le cose che abbiamo raccolto durante le feste natalizie per la cittadinanza di Garlasco con un genere alimentare, giocattoli e altre cose che potranno essere utili per la comunità della città di Garlasco Grazie, grazie a Elanio, a vostri vostri vostri, grazie davvero alla comunità di Garlasco ringrazio e spero, anzi con i servizi sociali e l'assessorato dedicato, distribuiremo alle famiglie bisognose della nostra città Grazie al vostro impegno, grazie ancora a tutti Grazie, grazie ancora Grazie Ora ecco Oh yeah Volevo suonare il teremole E bene